Bentornati amici investitori, oggi volevo parlarvi di politica distributiva. Ne avevo un po' accennato nel video della settimana scorsa, alla fine, però volevo farci un video proprio dedicato, perché è molto importante in questo momento in cui, diciamo, ci sono delle chiare difficoltà nel mercato finanziario, un mercato finanziario che è cresciuto tantissimo negli scorsi dieci anni, che è cresciuto tantissimo sulla crescita proprio del business e di tanti business che sono cresciuti a dismisura, che hanno raggiunto delle capitalizzazioni pazzesche e un po' a guardare quelle capitalizzazioni, un po' anche a vedere la situazione di crisi attuale, uno si dice, beh, ma dove può andare il mercato da qui? Come può generare ritorni per gli investitori? Ecco, in questo video quindi parliamo di politica distributiva e parliamo dei due strumenti fondamentali che hanno le aziende per distribuire ritorni agli investitori, e cioè i dividendi e i buyback. Se vi piace il video, dete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro, cominciamo! La politica distributiva, dicevo, è estremamente importante perché è veramente ciò che genera ritorni per gli investitori nel lungo termine. Vi faccio vedere un grafico, questi sono i ritorni dell'S&P 500 dall'80 sostanzialmente ai giorni nostri, anzi, prima della pandemia comunque, sennò sarebbe ancora di più. Vedete la differenza tra i dividendi non reinvestiti, quindi i ritorni semplici, in blu, dai ritorni con i dividendi reinvestiti, in verde. Quindi vedete che in realtà nel lungo termine, per via dell'interesse composto, cioè dividendi reinvestiti che generano altri dividendi e così via, la stragrande maggioranza dei ritorni arriva dai dividendi, cioè da ciò che viene distribuito come cash effettivamente agli investitori. Ora, le aziende hanno due strumenti a disposizione per distribuire ritorni agli azionisti. I dividendi e i buyback. I dividendi cosa sono? Molto semplicemente un pagamento, quindi un'azienda fa tot di utili, una parte li può reinvestire e una parte li distribuisce, quindi proprio li paga fisicamente ai suoi azionisti, che quindi ricevono cassa in contanti. Il secondo strumento sono i buyback, cioè un'azienda può utilizzare l'utile aziendale per comprare azioni proprie, cioè andare sul mercato, comprare azioni della stessa azienda in circolazione e cancellarle. Questo ha l'effetto di far sì che gli azionisti abbiano una quota più grande della stessa azienda, cioè hanno sempre lo stesso numero di azioni, però a ogni azione corrisponde una quota, una fetta diciamo più grande dell'azienda, e quindi ovviamente maggiori utili per l'azione e quindi un valore più alto in teoria dell'azione. Che cosa è meglio? Buyback oppure dividendi? Allora, la regola vorrebbe che quando il prezzo dell'azione è più alto del valore intrinseco dell'azione, il management dovrebbe distribuire attraverso dividendi, quindi dovrebbe pagare gli azionisti, perché non ha altro modo per, se non li può ovviamente reinvestire nell'azienda, non ha altro modo per distribuire i ritorni. Se invece il prezzo dell'azione è più basso del valore intrinseco dell'azienda, il management dovrebbe operare i buyback, quindi dovrebbe comprare azioni proprie nel mercato, cancellarle e in questo modo distribuire. In questo modo, tra l'altro, farebbe avvicinare il prezzo dell'azione al suo valore intrinseco e quindi creerebbe maggior valore per gli investitori, perché ovviamente sto utilizzando molto bene i soldi dell'azienda, sostanzialmente sto facendo value investing di fatto. Nella pratica si fa così, non proprio. Allora, nella pratica gli investitori preferiscono i dividendi e preferiscono anche che i dividendi siano molto stabili, sia gli investitori a reddito, sia gli investitori ad accumulo. Il motivo è che per gli investitori a reddito, ovviamente, se no il loro reddito non è stabile, e per gli investitori ad accumulo, perché i dividendi stabili consentono di reinvestire quando il mercato fa i famosi alti e bassi, quindi se il cash che viene pagato dall'azienda è stabile, io posso intervenire in questi momenti e posso avvantaggiarmi nei momenti di bassa del mercato. Quindi i buyback possono essere utilizzati in questo senso, tenendo presente che quindi la principale fonte di distribuzione dei ritorni per gli investitori sono i dividendi, i buyback possono essere utilizzati in modo intelligente, in modo sciocco. Allora, in modo sciocco è quando vengono utilizzati a fini speculativi. Spesso, purtroppo, vediamo aziende che utilizzano i buyback per spingere il prezzo dell'azione verso l'alto, qualsiasi sia il suo prezzo, qualsiasi sia il valore intrinsico, qualsiasi sia la differenza tra i due. Quindi questo non va bene. Utilizzare i buyback solo come spinta dell'azione verso l'alto a fini speculativi è un utilizzo malsano delle risorse. Se il prezzo dell'azienda è più alto del suo valore intrinseco, casomai si potrebbe addirittura fare il contrario, quindi emettere azioni proprie e incassare cash senza diluire gli azionisti oppure diluendoli, ma comunque meno di quello che sarebbe stato a prezzi correnti, a prezzi normali. Il secondo metodo, il metodo intelligente di utilizzare i buyback è quello di rendere la politica distributiva, cioè quello di rendere in realtà la distribuzione di dividendi, la politica di dividendi, più stabile nel tempo. Allora, voglio farvi vedere un esempio, e cioè quello di Procter & Gamble. Procter & Gamble è un colosso dei beni di largo consumo, sicuramente usate un mucchio di prodotti della Procter & Gamble, ed è tra l'altro un ottimo pagatore di dividendi. Voi vedete il dividendo negli ultimi dieci anni, è passato da 2,21 dollari per azione a, quest'anno dovrebbe essere 3,65, quindi praticamente un 70% di incremento. Ora, come fa un'azienda così stabile? E se andiamo a vedere, infatti, il cash flow di Procter & Gamble, notate che non è salito di così tanto, è salito sostanzialmente dell'inflazione, è salito al massimo di un 20%, una roba di questo tipo, negli ultimi dieci anni. Quindi come è possibile che un'azienda così stabile, il cui cash flow aumenta praticamente del tasso dell'inflazione, abbia potuto aumentare il dividendo così tanto, di gran lunga più dell'inflazione. Il motivo è perché Procter & Gamble, innanzitutto, è un ottimo business, quindi come vedete non deve reinvestire più di tanto, ha ampio cash in eccesso che può utilizzare per distribuire, quindi per, sì, appunto per distribuire ritorni agli azionisti e lo fa in modo intelligente. Allora, vi vedete, in parte lo fa ovviamente distribuendo dividendi che sono rimasti in linea col cash flow, cioè erano più o meno la metà del cash flow nel 2013 e sono rimasti più o meno la metà, poco più della metà forse, quest'anno. Quindi non è andata ad aumentare il payout e a renderlo insostenibile. Che cosa ha fatto? Invece di distribuire tutti, tutto il cash in eccesso subito sotto forma di dividendi, ha usato, voi vedete, Payments for Common Stock, che sarebbe buyback, una parte di questo cash flow per comprarsi azioni proprie. E quindi questo significa che ci sono meno azioni in circolazione e quindi Procter & Gamble può aumentare il dividendo per azione di più di quello che aumenta il dividendo in valore assoluto a livello di società. E questo ovviamente nel lungo termine si vede, perché vedete che ogni anno va a distribuire una buona parte del cash flow sotto forma di buyback, tra l'altro c'è dato dentro in questi ultimi anni, specialmente 2020 e tra l'altro quest'anno, quindi bene, con i prezzi un po' diciamo magari migliori, questa in verità è un'azienda abbastanza stabile anche in borsa, però insomma magari non prezzi così stellari e questo ovviamente le consente di rendere la politica dei dividendi più stabile nel tempo. E questo è un uso sicuramente intelligente dei buyback, quindi quando sentite che un'azienda specialmente questo vale per azioni a dividendo, per azioni value, non vale per azioni a crescita, azioni a crescita male che facciano buyback, perché avranno delle valutazioni alte, cosa fanno buyback a fare? Dovrebbero o reinvestire se sono veramente a crescita o se smettono di crescere e pagare più dividendi, e accettare questa cosa, ok? Però per quanto riguarda le azioni value, azioni a dividendo, quando sentite che fanno buyback e in genere il prezzo di queste azioni non è mai stellare, può essere comunque sostenuto, perché la qualità si paga in borsa, però non è cifre mastodontiche, ok? Sono cifre che possono anche essere accettabili, ecco, praticamente è come se il vostro dividendo fosse posticipato, ok? Non vi distribuiscono subito gli utili, ma rendono più sostenibile e dilazionata, dilazionata non è un bel termine, diciamo più sostenibile nel tempo la politica dei dividendi. e quindi questo può anche essere una buona cosa, ok? Ovviamente tra l'altro questo consente al management non soltanto quindi a voi come investitori di intervenire, avvantaggiarvi di un ribasso nelle valutazioni, ma anche al management stesso. Se l'azienda è stabile e ragazzi, ve lo dico sempre nel lungo termine, non contano queste fluttuazioni di mercato su e giù, ma contano i ritorni che le aziende sono in grado di generare, i ritorni fondamentali, il cash flow, il cash flow in eccesso che le aziende sono in grado di generare e di distribuire a noi investitori, questi sono i veri ritorni, ok? Che devono essere in eccesso dell'inflazione per essere positivi, però questo è quello che conta, non l'esplosione delle capitalizzazioni che arrivano fino a un certo punto per forza di cosa l'azienda non può crescere all'infinito, però può generare ritorni per tantissimo tempo. Procter & Gamble paga dividendi senza averli mai tagliati da più di 50 anni, penso da 53-54 anni, un'azienda che esiste da tantissimo tempo e è rimasta sempre lì continuando a generare ritorni, distribuire cash flow ai suoi azionisti in vari modi e sicuramente i buyback per un management esperto sono un ottimo modo per avvantaggiarsi di situazioni di ribasso, anche protratto, perché ogni anno si incassa di più, e si rende più sostenibile e anche più in grado di essere aumentato il dividendo nel tempo in situazioni di ribasso. È un ottimo strumento per quindi distribuire ritorni agli azionisti. Ecco, quindi questa era la differenza tra dividendi e buyback. Sono entrambi strumenti molto importanti, molto importanti specialmente in questo momento in cui non avremo secondo me un aumento delle capitalizzazioni come abbiamo visto in passato nei prossimi dieci anni. Non penso proprio, però questo non significa che non riceveremo ritorni dei nostri investimenti anzi. L'importante è che continuino ad avere buoni ritorni fondamentali e che ovviamente poi li distribuiscano con un po' di senno. Bene, come al solito se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a imparare un metodo per costruire un portafoglio ad accumulo per il lungo termine andate a vedere la pagina del mio videocorso di cui trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono come sempre Alessandro Lazzaro ci vediamo nel prossimo video.